Proseguire senza indugi su uno dei progetti prioritari indicati dall'amministrazione comunale, quello della nuova piscina al polisportivo che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Se ne ha parlato nella riunione di giunte in cui è stato fatto il punto tecnico sulla progetto al cui lavoro c'è un pool di uffici del comune. L'obiettivo è stato approfondire i contenuti del piano industriale presentato dalla ANT Europa di Castiglione dell'Estiviere. Nel progetto, oltre alla nuova vasca da 33x25 metri al Franzanti, c'è anche la trasformazione della raffalda in una palestra al servizio del quartiere. Nei prossimi giorni gli assessori si ritroveranno per formalizzare il DUP, il documento unico di programmazione, proprio quello che tra le altre cose contiene il progetto della nuova piscina. In giunta si è poi discusso del cosiddetto bando delle periferie. Si tratta di una gara ministeriale da 500 milioni di euro alla quale il comune conta di partecipare entro la fine di agosto per sistemare strategicamente alcune aree a nord della città. Grazie a tutti.